Benvenuti nel villaggio di Snow Mountain, dove le pecore vivono in armonia e i cani dovrebbero imparare a proteggerle. Eccolo! Viene verso di te! Sì! Hai visto papà! Piuttosto che fare rock'n'roll... Mi piace forte! Da duro e puro! Papà, ho deciso che diventerò un musicista! Tu non diventerai un musicista, Bodhi! Diventerai un guardiano! Ecco! Ma un'ispirazione cade dal cielo. Qualche consiglio per diventare musicisti? Seguite il vostro istinto senza mai fermarvi. Una storia emozionante. Bodhi, lui non è come te. Sta cercando il suo paradiso. Vai in città. Tira fuori la tua passione. A dicembre... Sì! Sì! Scattergood è venuto a Rock'n'Roll Park e ha conosciuto una band che cercava un chitarrista. Dovresti andare a trovarlo. Chiedi di darti qualche lezione di chitarra. Lo farò! Quello era uno svitato. Ti insegui i tuoi sogni. Forse mio padre aveva ragione. Non puoi mollare adesso. Il signor Scattergood ha detto che non bisogna fermarti e niente mi impedirà. No! Piove! Non arrenderti mai. È come avere la risposta alla domanda della tua vita. Ok, solo un abbraccio veloce. No, non toccarmi! Rock Dog. Con le canzoni cantate dal vincitore di X-Factor, Jossada. Dal primo dicembre al cinema.